Ciao, mi chiamo Rosario e ti do il benvenuto al mio canale. In questo piccolo spazio parlo principalmente di fotografia, mia passione ma da un po' di tempo anche professione. Perciò, se l'argomento ti interessa, ti invito a seguirmi. Non ti garantisco chissà quale costanza ne pubblicare i contenuti, perché già solo impostare questo piccolo studio mi prende un sacco di tempo, però ho tante cose da dire e ti garantisco che ne varrà la pena. Perciò ancora benvenuto e alla prossima!